Would you like a receipt? Oggi parleremo di Rita Levi Montalcini E la prima domanda che ci poniamo è Perché è famosa? Di certo non sarà una calciatrice Né quantomeno uno chef stellato E allora cosa la rende così conosciuta? Facciamoglielo chiedere da una nostra giornalista Signora Montalcini Lei ha firmato quella libertà delle donne Sannolò Giorgi Ci puoi spiegare il messaggio che lei vuole trasmittere? Allora certo La libertà delle donne Sannolò Giorgi